Il salotto letterario di Casa Sanremo oggi ospita il nostro carissimo Paolo Chiappero. Paolo, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, di buon mattino insieme, prima di cominciare la giornata, e ricordiamo un po' questa tua partecipazione a Casa Sanremo Writers 2024. Diciamo che anche Paolo è stato selezionato tra tantissimi autori che poi conosceremo durante proprio l'edizione del Festival di Sanremo. E diciamo subito il titolo del tuo libro, Paolo, che è Fuga da Berlino. Ci dà qualche indicazione in merito? Sì, Fuga da Berlino è ispirato alla storia di mio padre che fu internato in un lager a Berlino come militare italiano che non aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana e quindi per qualche modo per punizione questi soldati che si rifiutarono di passare dopo l'8 settembre 1943 nelle fila del neoesercito italiano, dell'esercito nazifascista, furono, diciamo, in qualche modo considerati traditori e su questo poi, voglio dire, ne pagarono fortemente le conseguenze. Però da questo lager mio padre, diciamo, riuscì poi a scappare. Stai in un romanzo, possiamo dire, che è un romanzo che ha uno sfondo storico e racconta una storia, cioè la storia in questo caso di tuo padre e poi raccontando un po' quel periodo storico, no? Sì, esatto, sì. Poi in realtà la scrittura si è sempre di più, mentre mi medesimavo, diciamo, in questi momenti, no? Che sono da una parte esaltanti, ma anche tragici contemporaneamente perché ovviamente un'esperienza del genere non la segna, ecco, insomma, l'esistenza di una persona. Sei uno scrittore di professione oppure hai sentito l'esigenza, in questo caso, di raccontare una storia anche molto vicina, naturalmente, alla tua famiglia? Per me l'esigenza è quella di trasmettere una memoria, soprattutto ai più giovani, quindi ho cercato anche una scrittura adatta, una lettura ai ragazzi, insomma, per cercare di avvicinare questi argomenti senza dover per forza andare su una memorialistica storica, ecco. E quindi ho pensato più ai ragazzi, ai miei figli, sostanzialmente, che sapessero cosa poi il nonno e, diciamo, persone come il nonno avessero poi vissuto in quel periodo. In effetti c'è un pezzo della storia italiana che è questa, proprio questa, che nasce a cavallo dell'8 settembre 1943, che è veramente poco conosciuta, anche nella bibliografia ufficiale. Quindi meritava, in qualche modo, di essere raccontata. E' forse il primo romanzo che racconta le storie degli internati militari, che sono appunto questi soldati che, dopo l'8 settembre, per sostanzialmente mantenere la fedeltà all'esercito italiano, che aveva in qualche modo coordinato il ruolo di passare con gli alleati, e quindi si sono mantenuti fedeli agli ordini ricevuti. È una bella operazione il fatto di far passare la storia italiana ai ragazzi che molto spesso non la conoscono, anche perché leggono quella dei libri, che è un po', a volte anche un tantino diversa rispetto a quella che è la realtà. Però l'hai fatto attraverso un'esperienza assolutamente personale, legata alla tua famiglia, e una visione, in qualche modo, un po' diversa da quella solita. Sì, questo è vero, sì, è diversa, perché veramente mi sono anche stupito che un evento del genere di questa portata, perché stiamo parlando di circa 650.000 soldati, di cui faccio presente 70.000, non tornarono più a casa, cioè morirono nei lagri, vennero anche costretti a lavori forzati, a cose a 10-12 ore di lavoro al giorno, cioè cose che, come dire, imbarazzanti sotto l'aspetto anche poi del racconto, in qualche modo diventano difficili. Quindi leggere il tuo romanzo e entrare nella storia italiana attraverso un'esperienza vera, che è una cosa anche importante, perché poi leggere delle cose che sono non soltanto inventate, forse romanzate, ma sono comunque... La realtà sicuramente ha un effetto particolarmente interessante, quindi conoscere la storia attraverso quelli che l'hanno vissuta e l'hanno subita, forse, in questo caso ovviamente parlando di tuo padre. Paolo Chia, però, che sarà al salotto letterario di Casa Sanremo, Writers 2024, poche battute per dire come ti aspetti questo appuntamento. Beh, direi sicuramente un appuntamento dove si possano fare dei confronti, soprattutto nell'ambito di una trasposizione cinematografica di questo testo. Bene, bene, bene. Perché qualche interessamento in tal senso è già arrivato, ma è sicuramente un film di una portata non solo limitata all'Italia, quindi ha bisogno di una produzione di una certa rilevanza, ecco che non è semplice da trovare. Da realizzare, non è facile da mettere insieme. Paolo Chia, però, Fuga da Berlino, è un romanzo che parte ovviamente dall'esperienza della sua famiglia. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, naturalmente l'appuntamento con te e a casa Sanremo. Ci vedremo da quelle parti dal vivo. Grazie Paolo. Ringrazio voi e buona giornata a tutti.